Occhio giornali di martedì 6 aprile 2021, buongiorno a tutti ben ritrovati cari telespettatori qui sul canale 17 di Fano TV c'è la rassegna stampa, il commento alla stampa della giorno allora oggi siamo in zona arancione, da oggi si ricomincia la nostra, anzi siamo sempre in battaglia però insomma ricominciamo a raccontarvela anche noi attraverso i giornali allora innanzitutto andiamo a vedere il santo, poi le previsioni del tempo perché oggi cambia San Pietro da Verone, il sole è sorto alle 6.45, tramonterà alle 19.43 Cambia nel senso che arriva l'aria fredda, arriva anche la pioggia, tanta nella nostra regione irruzione artica, titolo del trebimeteo.com, temporali grandi nel neve a quote molto basse crollo termico in queste ore, gelate tardive, poi da giovedì invece rimonta l'anticiclone ed ecco quanto potrebbe durare. Andiamo a vedere la nostra regione velocemente allora questa è la regione Marchia, questa mattina le prime piogge sul Pesarese il pomeriggio addirittura la neve 400-300 metri sulle colline pesaresi, questa invece la notte ancora pioggia, ancora neve intorno ai 300 metri. Vediamo la giornata di domani mercoledì, mercoledì cambia anche se poi, questa è domani mattina, poi nel pomeriggio vedete ancora qualche nuvolosità variabile con della neve. I titoli over 80, ultimo miglio titolo del Corriere Adriatico edizione di Pesaro, parliamo chiaramente dei vaccini, l'obiettivo dell'area vasta è quello di finire di vaccinare gli ultraottantenni a domicilio entro metà mese e come abbiamo detto da oggi le marche sono in zona arancione, piegano le curve dei contagi, si abbassa l'età media dei positivi. La grande voglia del liberi tutti, la grande voglia di tornare ad una vita normale. Non sono mancate le persone che sono state pizzicate, sono state multate, questa è un'immagine della passeggiata di Sassonia a Fano. Poi sotto invece le notizie in breve, il ragazzino scrive da Pesaro, scrive a Papa Francesco e lui gli risponde subito. Nuovo parcheggio alla stazione, il comune dice sì e poi la fondazione a Fano lancia, la fondazione Cassa degli Sparmi di Fano lancia la raccolta fondi online per sostenere il welfare. Il pusher invece che viene arrestato nel giorno del suo compleanno, la polizia lo sorprende a 50 anni, nascondeva la droga nel forno a microonde. 20 anni di multiservizi tra governance e prospettiva. Andiamo a vedere adesso invece il carlino di Pesaro. Servono i rinforzi, la fotonotizia, somministrazioni, poche medici, gli specializzandi dicono di no. Sanitari Novax, l'ultima chiamata, alcuni contattano i sindacati per chiedere di essere difesi, ma molti altri hanno alzato bandiera bianca, insomma si sono arresi e hanno detto vabbè facciamolo questo vaccino. E poi droga nel microonde, arrestato il giorno del compleanno per azione della squadra mobile. E poi il primato regionale, i pesaresi stanno tallonando gli anconetani. Beh non è proprio ancora, c'è insomma qualche numero da raggiungere, ma insomma si rischia che Pesaro diventi la città più popolosa della nostra regione. Mentre c'è una notizia che riguarda il Covid, la morte di un imprenditore molto conosciuto, morto il costruttore italino Mulazzani, poi ancora sotto oggi scatta la zona arancione, ecco cosa cambia. Poi lo sport con la volata che decide il futuro, basket tutto in cinque partite, poi gli incroci delle ultime giornate, parliamo di calcio, vi se fanno, ecco le carte della salvezza. Partiamo da questa cartina, andiamola a vedere subito sulla pagina del resto del calino. È l'Italia di oggi, l'Italia a colore. Come cambia praticamente da oggi? Ci sono nove regioni in zone rosse, noi abbiamo soltanto l'Emilia Romagna, per chi ci segue dalla nord della regione, quindi in provincia di Pesaro Urbino, tra i vicini ancora rossi, poi abbiamo un pezzettino di Toscana, ma per il resto siamo con l'Umbria e l'Abruzzo che invece sono tornate come noi in zona arancione. Beh, che cosa si può fare? Ormai lo sappiamo, è inutile starlo a ripetere. Diciamo che l'obiettivo invece è quello, come si legge in quest'articolo di Alessandro Farruggia, è quello di arrivare ad una zona bianca. Beh, insomma, comunque il giallo ancora non è possibile perché per decreto, lo sappiamo, il Governo ha deciso che almeno per tutto aprile non ci potranno essere zone gialle, solo o arancioni o rosse. Poi dopo si tratterà di vedere, già dal prossimo venerdì, se con l'indice RT, quindi l'indice di contagio sotto l'uno e con 150 casi ogni 100.000 abitanti si può allentare ancora un pochettino. L'obiettivo chiaramente è quello di riaprire i bar, i ristoranti, i teatri, i parrucchieri apriranno già da oggi. Insomma, dopo il 20 di aprile, ecco, questa è l'idea. Improbabile invece ancora l'apertura, la riapertura di palestre, di piscine, qualche spiraglio invece per l'attività all'aria aperta, come per esempio il calcio, il calcetto, che sono giochi di squadra dove si sta in qualche modo a contatto sia nel campo ma anche fuori perché poi si è negli spogliatoi. Insomma, però, questo è, dopo il 20 di aprile, per il momento non ci sono speranze. Intanto il Covid spazza via una generazione di sacerdoti. in un anno di pandemia sono stati uccisi dal virus 269 preti contro 299 ordinati. Bergamo, la città più colpita e un anno di Covid ha fatto strage di preti nel nostro paese, quasi azzerato il ricambio dato dalle nuove ordinazioni e c'è anche l'incremento, diciamo, in un anno di decessi che non sono dovuti alla pandemia e che è pari al 30%. Sappiamo la popolazione sacerdotale, insomma, dei preti è, insomma, molto avanti con l'età. 742 nel 2019 sono i preti che ci hanno lasciati contro i 958 del 2020. Si muore in due diocesi su 5 ad essere toccate dal lutto. Sono state 86 chiese locali su 225, pare al 38%. Abbiamo detto Bergamo, la città più colpita. C'è un'altra notizia poi invece sul quotidiano nazionale che riguarda, è interessante, la segnalo, che riguarda le mascherine. Ora, le mascherine lavabili non sono efficaci, ma questo lo sapevamo già, anche se poi in tanti fanno finta di non saperlo. Le mascherine lavabili, anche quelle che solitamente, quelle tutte colorate, con i fiorellini, con i disegni, eccetera, ecco, queste qua non vanno bene. Sono queste mascherine, questi fazzoletti di stoffa, ecco, chiamiamoli meglio così, riciclati per produrre mascherine o anche altri materiali. Queste andavano bene all'inizio della pandemia, quando le altre, anche quelle chirurgiche, figuriamoci le FP2, insomma, non si trovavano e quindi ci si arrangiava un po' come si poteva. Però poi sono andate un po' di moda, quindi si sono continuate a produrre, adesso ci sono con i disegni, eccetera, eccetera. Però non vanno bene. Mentre le mascherine chirurgiche filtrono il 95% verso l'esterno, quindi il 95% delle particelle in uscita, quindi difendono, se uno le indossa, soprattutto gli altri. Però, quindi proteggono le altre persone, un po' meno, insomma, quelli che stanno lì, a meno che poi non si è tutti con la mascherina, chiaramente. Mentre le mascherine FFP1 filtrano l'80% delle molecole, le FFP2 il 94% delle particelle che si trovano nell'aria, fino a dimensioni anche molto piccole, come 0,6 micron. E poi ci sono le FFP3 che usano i sanitari, si tratta di mascherine antipolvere, a filtrazione batterica utili per gli operatori sanitari, filtrano almeno il 99% delle particelle con dimensioni fino a 0,6 micron. E sono inoltre in grado di catturare particelle tossiche e anche cancerogene. Quindi diciamo che le FFP3, ma io ho dato uno sguardo prima su internet, insomma sì, ci sono, sono disponibili, una cinquantina mi pare che costino sui 100 euro, ecco, almeno quelle che ho visto io prima di venire qua. Poi, sempre su questa notizia, per esempio, sulle mascherine, molti si chiedono quanto tempo ancora, dovremo portare queste mascherine, beh, intanto fin quando non usciamo da questa pandemia. Ma tra i virologi, tra quelli più conosciuti, per esempio Anthony Fauci, che è il volto simbolo della lotta contro la pandemia negli Stati Uniti, in un'intervista alla Fox News dice che probabilmente bisogna tenerle fino al 2022. Quindi ancora tutto questo anno, tutto il 2021, fino a dicembre del 2021. Poi dice ancora, è probabile che se si viene vaccinato non diffonderai l'infezione nel caso in cui tu venga contagiato e non avrai alcun sintomo. Non c'è dubbio su questo. Arriveranno poi degli studi che ce lo confermeranno in modo definitivo, per cui ha proseguito Fauci, quando questo accadrà potremmo dire che le persone vaccinate possono non indossare la mascherina. Ma vorrei essere prudente, aspettiamo di avere appunto questi dati scientifici. Per ora anche, lo diciamo e lo sappiamo bene, anche chi ha fatto la seconda dose, il richiamo, tutto quanto, al momento deve mantenere, deve tenere la mascherina, mantenere distanze, eccetera, eccetera. Le variabili comunque sono molte e se continueremo ad avere un aumento di casi, potremmo continuare a dover indossare le mascherine anche nel 2022. Quindi fino alla fine di dicembre, ma secondo Fauci, anche nel 2022 sei casi aumenteranno. Ma di questo non ne vogliamo nemmeno parlare in questo momento, altrimenti andiamo in depressione. Allora, positivi invece, andiamo a vedere com'è la situazione a Valle Foglia e prima e poi anche nella Valle del Cesano. Questa è un po' la situazione che pubblica il Carlino questa mattina. Vedete, a partire da Gabice, com'era la situazione dei positivi e delle pressioni quarantene il 25 di marzo e ieri. Ci sono dei miglioramenti, sicuramente, sono tutte, come dire, a parte Montecalvo in Foglia che ha un trend contrario perché si è passati da 38 a 42. Per il resto mi pare di poter dire a colpo d'occhio che insomma anche Valle Foglia, per esempio da 95 positivi, il 25 di marzo è passato a 80, quindi 15 in meno, così tutto il resto insomma sono in diminuzione. Andiamo a vedere invece adesso, invece nella Val Cesano, quindi Fratterosa, Mondolfo, Mondavio, anche qui la situazione è a lungo raggio. Possiamo vedere i positivi dal 15 di marzo e i positivi al 5 di aprile. Ecco, Fratterosa qui ancora segna un dato piuttosto elevato. Siamo passati da 1 del 15 marzo a 12. Ecco, per il resto invece sono tutti più o meno in discesa, con Mondolfo che da 112 del 15 marzo o anche i 97 della settimana scorsa sono scesi a 83. Per esempio Mondavio 53, 45, vedete, sono tutti in diminuzione tranne Fratterosa che da 6 ha raddoppiato ed è passata a 12. Adesso, stamattina a Pesero finalmente si può riaprire il mercato, il San Decenzi. Ora bisogna vedere poi se la gente, visto e considerato il maltempo che sta arrivando, sta iniziando ad arrivare per chi ci segue alle 7 e un quarto del mattino, già con un po' di vento, vento sostenuto, anche se non freddissimo, ma già ci sono le nuvole e tra poco arriverà anche la pioggia. Questa mattina tornano gli ambulanti, dicevamo, e il mercato riparte subito. Questo è il titolo sulla pagina 9 del Corriere Adriatico. E poi sul fronte invece dei vaccini, nelle RSA, nelle case di riposo, ormai completata la campagna per i fragili. Si tratta per i disabili invece ospiti dei centri di urni. Per il resto le RSA sono a posto. Invece a pagina 10 il Corriere Adriatico fa il bilancio di quella che è stata la giornata di ieri, una giornata comunque di festa, pasquetta, dove i controlli non sono mancati, controlli da parte delle forze dell'ordine. E qui si racconta di una persona che da Pescara, quindi dall'Abruzzo, è arrivata fino a Pesero per andare in un negozio di bricolage che era aperto. Pasqua e pasquetta di controlli, tra i multati non mancano scuse fantasiose. La comandante di Pesero Muzzini dice che l'obiettivo era di far sentire la nostra presenza. Ci sono, come vedete, le fotografie anche della spiaggia, per esempio quella di Ponente. La sorpresa è il kitesurf e sul lungomare diventano tutti dei runner, tutti a correre appunto. E il fine settimana pasquale comunque in zona rossa è passato abbastanza bene. Insomma, ci sono stati molte, molte, molte. A fa non mi pare che non sia stato multato nessuno. Italo Mulazzani, invece, lo conosciamo tutti, purtroppo non ce l'ha fatta. Il costruttore è sconfitto dal Covid, aveva 87 anni ed era ricoverato a Pesero. Il sindaco di Montegridolfo dice se ne va un pezzo di storia. E questa volta la notizia è vera, purtroppo. Dico e inizia così questo articolo perché a un certo punto, ieri o ieri l'altro, insomma, si era diffusa la voce della morte di Mulazzani. Il sindaco di Pesero Riccio aveva già scritto l'articolo di Cordoglio, però poi è arrivata la smentita. In realtà ormai Mulazzani stava lasciando questo mondo e soltanto una questione di qualche ora. E poi la notizia è stata data per ufficiale. Era un combattente, dice, ma il Covid l'ha sconfitto. Da giorni era ricoverato in condizioni gravi all'ospedale San Salvatore di Pesero. Le sue condizioni si erano aggravate, al punto che nel pomeriggio di sabato, vedete, si era diffusa la notizia della sua scomparsa, ma non era vero. L'imprenditore del mattone si era andato però poi per sempre. E lo ricorda il sindaco di Montegridolfo, Lorenzo Grilli. E anche il resto del Carlino, il resto del Carlino ricorda il re del mattone. Aveva 86 anni, aveva fatto il primo vaccino, ma alla fine avventò il Covid. Tra le opere realizzate, il Tribunale di Pesero e anche il nuovo Palas. Non aveva paura, dice il figlio Fabio, ricordando il papà, non aveva paura di morire, ma di non vivere. E non parlava mai del passato, perché guardava sempre avanti. La pagina di Fano, invece, del Corriere Adriatico. Welfare, Fondazione Carifano, lancia una raccolta di fondi online. Il bando privilegia i progetti capaci di aggregare risorse private. L'ente aggiungerà poi dei contributi. Sotto, invece, finalmente in classe, ultimo periodo difficile. Insegnante Santoro, soddisfatta delle lezioni in presenza, ma solo per metà dei studenti. Memoria, coraggio e sana utopia. Sempre possibile un nuovo inizio. Il Vescovo Trasarti pensa ai sofferenti e indica le qualità umane di Gesù. Priorità alle persone. Un articolo che troverete sulla pagina di oggi di Fano del Corriere Adriatico, pagina 19, un articolo scritto da Lorenzo Furlani, Monsignor Trasarti durante la Messa, lo vedete qua nella cattedrale, trasmessa in diretta su Fano TV. E poi, sempre su questa pagina di Fano del Corriere Adriatico, a Santa Maria Nuova, invece, sempre una chiesa del centro storico, la notizia è che una donna, una donna voleva fare la comunione, voleva ricevere la comunione in bocca, l'Eucaristia in bocca, solo che giustamente il sacerdote non gliel'ha data, padre Giancarlo Mandolini si è opposto e quindi ha rifiutato di darle l'Eucaristia in bocca, perché le regole anti-Covid prevedono che l'ostia venga porta, venga data con dispositivi di protezione individuale sul palmo della mano. Questa donna ha insistito, ma di fronte alla fermenza del celebrante, questa donna si è alzata, bruscamente, e se n'è andata. Se n'è andata. Chiaramente il priore del convento di Santa Maria Nuova insomma ci è rimasto un po' male, è rimasto un po' turbato da questa scena, questa piadonna che voleva l'Eucaristia in bocca e se n'è andata via così in modo brusco, probabilmente anche lamentandosi, e il sacerdote alla fine della Messa ha voluto spiegare un po' pubblicamente, giustificarsi pubblicamente, anche se c'era niente da giustificarsi, dicendo che lui non poteva accogliere quella richiesta e doveva tenersi alle regole, altrimenti diversamente avrebbe, anzi rischiato, la chiusura della Chiesa. Intanto oggi, martedì di Pasqua, è la festa della Madonna del Ponte, per i fanesi, noi che viviamo a Fano sappiamo quanto è cara questa festa, che purtroppo oggi è un po' così, già per la pandemia, ma anche per il cattivo tempo. Comunque, la festa della Madonna del Ponte si celebra nell'omonimo santuario che sta alle porte di Fano Sud, ci sono le messe dalle 8 in poi, quindi messe una dietro l'altra, alle 17.30 quella ufficiata dal Vescovo Trasarti. Adesso invece la pagina di Fano del resto del Carlino. Pasquetta, pochi intrepidi nella città vuota, vie, piazze semideserte, evitate anche le tradizionali mete più gettonate per i picnic nell'ultimo giorno di restrizioni della zona rossa. Ecco qui alcune fotografie con alcuni aderenti al Fishing Club, sopra questa fotografia qua, poi sotto invece i passeggi, il nostro polmone verde che attraversa la città, ormai insomma deserti, e poi altre due persone che invece erano sul lungomare, sulla spiaggia direttamente di Fano. Tanti controlli, dicevamo, nemmeno una multa, orgogliosa della responsabilità dei fanesi, orgogliosa l'assessore Cucchiarini che fa il bilancio di questo fine settimana di Pasqua, le sanzioni sono tutte per gli automobilisti. Sono state 150 le persone controllate da sabato a ieri, e 73 negozi, parchi, spiagge e impianti all'aperto, tutti controllati, divise nelle principali vie d'accesso in città. Intanto il circuito Zengarini e lo skate oggi riaprono con l'allentamento delle restrizioni, il comune di Fano restituisce ai cittadini due luoghi pubblici di cui tanti fanesi sentivano la mancanza. Poi la cronaca, paura in strada, una moto si schianta contro un'auto, un incidente all'incrocio tra via Carducci e via Rossini, ferito un 65enne che guidava una Ducati che transitava in via Carducci in direzione Maremonte che è stata centrata da una Fiat Punto condotta da un fanesi di 37 anni che proveniva invece da via Rossini. Intanto l'asporto moltiplica i rifiuti, Aset moltiplica i bidoni, nella zona mare di Fano si provvederà anche a svuotare i contenitori con più frequenza, chiaramente, perché adesso con l'asporto, come vedete già anche dalla fotografia, in tanti sono a poi dover buttare nei bidoni della spazzatura che si trovano in giro e che però spesso sono pieni, quindi verranno svuotati più spesso. La pagina invece di oggi, pagina 17 del Carlino, pubblica un'intervista a Emanuele Orciari. Silvano Clapis l'ha incontrata nella sua abitazione, è un'illustratrice di libri per ragazzi e ci porta, dice, qui ho trovato il mio mondo fiabesco, ci porta dove nascono le sue ispirazioni, la bellezza là fuori la riporto nelle mie opere. E ancora, Pesaro ha un soffio da Ancona, al sorpasso su Ancona. La contesa riguarda gli abitanti di questi due comuni. La distanza si è assottigliata a 2.870 persone. Ora, non è che 2.870 persone le sposti su un pullman, però, insomma, comunque nulla a che vedere con le distanze di qualche anno fa. Urbino scende invece a 13.801 residenti, Urbino cala e anche qui c'è qualche polemica che abbiamo letto nelle settimane scorse, polemiche verso chi dovrebbe invece garantire e fare in modo che le città non si spopolino, quindi la si è buttata un po' in politica, ma comunque la politica ha responsabilità anche in questo senso. E comunque, Pesaro sta per raggiungere Ancona nel senso di residenti. I due comuni sono distanziati da 2.870 abitanti. Un'inezia lo ha appurato analizzando gli annuari dell'Istat, l'ex preside del Bramante Genca, Paolo Barchesi, che poi ha inviato al Carlino la sua analisi. Ancona, scrive, è sempre stata dal 1861, quindi dall'Unità d'Italia ad oggi, e forse anche prima, primo censimento italiano, la città più popolosa delle Marche. E Pesaro ha sempre rappresentato la damigella d'onore. Nel 1861, la differenza tra Ancona e Pesaro, quindi parliamo di qualche secolo fa, era di circa 23.000 abitanti. Quindi erano 47.000 gli anconetani, 24.000 i pesaresi. Cento anni dopo, nel 61, il gap era addirittura aumentato a circa 35.000. Quindi Ancona, cento anni dopo, è passata da 100, era 100.000 abitanti, mentre Pesaro 65.000. Ora, nell'ultima rilevazione del 31 dicembre 2020, la differenza, pensate, si è ridotta a 2.870 abitanti. Ancona oggi ha 99.108 residenti e Pesaro ne ha 96.238. Capite? Insomma, ecco, invece guardate velocemente gli altri. Allora, abbiamo detto Ancona e Pesaro, Fano 60.105, perché abbiamo perso quelli di Marotta, in sostanza, e quindi, però siamo sempre terzi, siamo sempre terzi nella classifica. Allora, festeggia il compleanno, ma, insomma, gli è andata male, nel senso che, nel giorno del suo compleanno, la polizia gli fa la festa e lo arresta, almeno così scrive il giornale, arrestato un cinquantenne dalla doppia vita, un operario di giorno e spacciatore di notte, in casa a coche e asci, nascosti al microonde e destinate al weekend di Pasqua. Mentre da Urbino, Tiziano Mancini intervista uno storico tassista che dice, racconta lui, ha fatto 5 milioni di chilometri e mai un incidente stradale. Vita e avventure su strada del 91enne Sergio Bucci, storico tassista, lo scrittore Paolo Volponi, viaggiava con lui. E qui c'è il racconto, sono stati anni duri, racconta lui, in una normale berlina, ne caricavo 11, 4 davanti e 7 persone dietro, poi li portava a casa, dopo le lezioni. Qui parlava chiaramente delle lezioni in classe. Senigallia invece, da Senigallia il Corriere Adriatico, un commerciante stroncato dal Covid, SMS con gli amici, fino a tre giorni prima, Gabriele Guidarelli aveva gestito prima una gelateria e poi anche un panificio, aveva 62 anni. E poi addio a Giacomelli, una vita per gli altri, ex titolare del campeggio Liana sul lungomare Da Vinci, molto attivo in parrocchia alla Caritas, è morto a 83 anni. La Profilassi, sempre da Senigallia, ha trovato una casa, sarà la palestra dei Vigili del Fuoco, il giorno di Pasqua sopra il luogo decisivo, c'è anche il consenso dell'Ausur, da giovedì dunque vaccini, a Senigallia agli over 70. E con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Vi ricordo, questa sera alle 20.30, naturalmente, il nostro telegiornale, Occhio alla Notizia, e poi guarda chi c'è. Nella puntata di questa sera, condotta da Paolo Notari, l'ospite sarà Carla Latini, imprenditrice nel settore gastronomico. E con questo chiudiamo davvero la nostra rassegna. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti. dietro. Grazie. 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 Grazie a tutti